Cari amici, benvenuti in un nuovo video dove oggi vi voglio far vedere il funzionamento della biglietteria ovviamente per la vostra ferrovia, ok? Qui come potete vedere ho già messo giù qualcosa, ok? Per farvi vedere, ok? Dove ci sono le entrate, le uscite dall'altra parte, vedete che qui c'è la freccettina per entrare, qui la freccettina non c'è perché è rivolta dall'altra parte che è per uscire, e qui dove si fanno i biglietti, ok? Questo invece poi dopo vi spiego che cosa c'è. Dovete capire che questo mondo ferroviario, ok? Nella realtà dei fatti funziona con gli smeraldi. Ovviamente in un mondo non super piatto ma in un mondo normale, ok? Quando troverete degli smeraldi che a quanto pare si trovano in modo veramente molto semplice, ok? Li potrete vendere attraverso questa macchina, questo negozio che vi permette di vendere i vostri smeraldi in cambio comunque di denaro. Il denaro però a che cosa serve? Serve effettivamente per ovviamente comprarvi i biglietti per prendere i vari mezzi, quindi treni e funivie, ok? Per esempio, partirei proprio da questo, ok? Esiste il processore di biglietti che è proprio quello che ovviamente vi stampa il biglietto per il treno oppure per la funivia, ok? Basta cliccarci sopra con il tasto destro e come potete vedere qui c'è scritto uscita a banco, costo un dollaro e potete entrare per esempio qui, ok? Se voi entrate qui, in automatico potete entrare. Con un biglietto soltanto potete andare avanti e indietro, ok? Quanto volete, ok? Vedete che potete andare avanti e indietro? Bellissimo direi, no? Con un solo biglietto, ok? Senza doverlo fare tutte le volte, ok? Questo, come dicevo prima, è una macchinetta che serve per vendere gli smeraldi, ok? Per esempio, vi faccio un esempio. Cerchiamo gli smeraldi, prendiamo uno stock per esempio da 64, tasto destro, ok? Vedete che qui vi dice poi venderne uno, poi venderne due, poi venderne quattro, otto, sedici, trentadue, oppure tutti e 64. Noi li vendiamo tutti e 64 e in un battivalene abbiamo i soldi. Come fare a vedere, ovviamente, quanto è il nostro saldo, ok? Con il processo di richiesta che noi metteremo giù, ok? Cliccando con il tasto destro in basso capiremo quanto è il nostro saldo, ok? Quindi in questo caso abbiamo 1173 dollari che possiamo utilizzare quanto cavolo vogliamo, ok? Per prendere i nostri mezzi e andare ovviamente ovunque, ok? Ecco ragazzi, questo è tutto quanto, ok? Questo è il funzionamento della biglietteria, ok? Per quanto riguarda tutti i mezzi ferroviari e per quanto riguarda le funivie. Spero di essere stato il vostro garantimento come sempre e con questo video è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! 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 !